Buongiorno, Genesis 14 giugno 2020. Full trotter. Genesis con la elica da 44, TFL, molto più stabile rispetto all'ottura. Wow, finalmente si va dritti. A full trotter, a massimo gas. Gli asembe una Ferrari, hai visto? Genesis Shock! Wow, 80.9 però con una bella stabilità al Genesis, con la elica quella da 44, TFL, molto stabile. Sono contento veramente, ora proviamo poi un altro pacco batterie, vediamo come va. Ciao amici al prossimo video, Carmelo vi saluta. Ciao grande! Ciao ciao! 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 Ciao!